musica ma che cazzo fate? ma vi pare normale? cioè siete due femmine ok? e minchia che cazzo? ma vi pare giusto piccio? cioè davanti a tutti vi baciate ragazze però che cazzo? ma qua davanti a tutti vi dovete baciare ma spostatevi dico io ragazze ragazze per favore mi potete fare il favore di un bacio qui in pubblico? oh ragazze ma che cazzo fate? ma vi pare normale davanti a tutti i baciati? no no io queste queste non le accetto no in pubblico no io ero seduto qua e ero tranquillo io non le sopporto eh queste cose a me non le hanno fastidio proprio non le sopporto mi dice per favore vi spostate no no mi ha fatto l'avanti le persone per queste cose dico la parola giusta ma che in pratica allora si stavano baciando e dico a me da un po' fastidio adesso ho capito che sono nel 2016 però dico ci sono persone, tante gente a me mi pare che non stavano facendo solo un bacetto ma siete due femmine, picciole, avete capito? e quindi non penso sia una normale ma non per me, ma anche per le persone che ci sono intorno però ci sono il mio problema è che si baciano lo dico, non è una cosa normale tra le femmine no, no, io queste cose non le faccio vabbè, comunque a me queste cose non le faccio se vi potete spostare vi costa le prove, se poi non so, non so niente di arduo però dico, c'è, sempre un monumento andate bene voi ma perché non andate bene? ma scusate, non è tu, bravo vi prego, vi hanno uscito mi chiedevi che sono travi ma non lo vorbe lascette? no, ah ma c'è segreti ma sai che hai sei? io dico se sei ma tu che cazzo sei? ma perché non te ne vai faccio mai lì? ma io non vai ci hai ma tu come la faccio? me ne vai? ma come? me ne va? ma non vi potete levare? dacqua per favore No, cioè, qua ci sono le altre persone, dico io. Sai cosa mi dà fastidio che vi baciate tre femmini? Vabbè, andate a fare un colo, va. L'avate la cazzo al sole, va, andate. Andatevene via. Cioè, non ci sono solo io, ci sono anche le altre persone. Ma io non sono facendo niente. Cioè, vi state bacendo in cubo. E quindi? Quindi no, siete due ragazze. Cioè, io queste cose non le sopporto, perché le ho oggi. Io che sto dicendo che mi dà fastidio? Ma voi mi date fastidio. Baciate in cubo. Ma se per favore ve ne potete andare. Io non vi dispiaceremo. Andatevene per favore. Sì, ma non lo capisco. Il mio problema? Il mio problema è che si baciano davanti a tutti. Questo è il mio problema. Tu sei una persona. E io? A te che ti sono levando? Sono due persone. A te che ti sono levando? A me non mi sono levando niente. Però sono due, a questa cosa mi dà fastidio. Allora, va, tenata, sentite, che non le guardate. Capisci come funziona adesso? No, non funziona così. Va bene. Ciao. No, di noi i carabinieri. Ciao, vediamo chi ha messo. Spero stanno facendo un tolto a qualcuno. Sono a me che si fa. È una gela libera. Nel momento in cui si è in casa, la giustizia, c'è la polizia. Tieni la polizia e denuncia. Ascolta, diciamo che i ragazzi li stanno baciando. Da poi vengono con l'esercito e li vengono a spostare. Ma io ci sono andato al gay pride. Ma che hai fatto allora? Proprio una strage. Ragazze, ragazze, per favore, mi potete fare il favore di non baciarvi in pubblico? Non so, facendo niente. No, perché mi dà fastidio veramente vedere quelle ragazze. No, no. Del ragazzo baciarti, cioè, mi dà fastidio. No, perché ci dico, davanti a tutti siamo. No, quindi non stavo facendo niente. Mi stavo troppo parlando e mi stavo per baciando. No, mi stavo baciando tutti. Baciamano tutti tra maschi e femmine, però. Mi stavo facendo. Mi dispiace, ma io la penso così, va. Ma nessuno si sta lamentando adesso. Solo io perché evidentemente dobbiamo fastidio. Eh, perché mi devo spostare io. Perché mi devo spostare da noi. Andate. Ma perché dovevo andare a tutti? Ma perché me ne dovevo andare io, scusate. Sì, dovevo andare a Londra e non ho la tira fastidio. Ma io stavo camminando da qua. Eh, vi ho visto, cioè. No? No. Non mi vado a fare questa cosa. No, perché non vado a fare questa cosa. Perché farò sapere una cosa. No, andate a fare. No, andate a fare questa cosa. Grazie.